Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. E' perché l'intento è di scaraventare sulle vittime un odio superiore ad ogni immaginazione, al fine di precipitare nel terrore un popolo intero ed obbligarlo a fuggire, ponendo fine all'esistenza dello Stato ebraico. E' questo secondo te il senso di quello che sta accadendo da cinque giorni a questa parte, quattro giorni a questa parte? Sì, io credo che l'intento primario e fondamentale dell'attacco di Hamas contro Israele sia di diffondere dentro Israele l'arma della paura. Hamas è convinta che mettendo una paura inimmaginabile, iniettando questa paura inimmaginabile nelle case degli israeliani, nella mente degli israeliani, può riuscire a far implodere Israele e farlo scomparire dalla faccia della terra. Non a caso, ieri Ali Khamenei, il leader del Supremo della rivoluzione iraniana, sostenitore di Hamas, ha lodato il coraggio e l'eroismo dei miliziani di Hamas, dicendo che hanno inferto a Israele un colpo del quale Israele non sarà in grado di riprendersi. Questo è il motivo per cui hanno adottato strategie e metodologie che vengono dalla notte della storia, come quella di decapitare i bambini. Andrea, pensi anche a tutti.